Nei prossimi giorni le Zebbre lasceranno l'Italia in direzione Sudafrica, dove sabato affronteranno l'unica gara nell'emisfero sud della stagione contro i Città, Sabbro e Fontaine. Prima della partenza abbiamo incontrato il tallonatore Luandre Lus, nato a Città del Capo e in forza le Zebbre a partire dalla stagione scorsa. Il numero 2 ex Accademia, nazionale under 20, emergenti e calvisano, ci ha raccontato l'inizio della sua carriera, il modello vale e le sfide che le hanno portate al massimo livello professionistico in Europa. Ciao Lus, sei nato a Città del Capo, terra di grande tradizione ovale. Come ci si avvicina al rugby nel tuo paese d'origine in Sudafrica? Ciao Leo, io sono nato a Città del Capo, ho giocato a una grande scuola al mio anno, anni 19, sono la miglior scuola di rugby per scuola e dopo io ho andato a Sharks per anni 19 e ho giocato a Sharks Under 19 Carri Cup, anche prima di aver voluto qua a Parma. Com'è stato così giovane, a soli 18 anni, trasferirsi da Città del Capo a Durban? A Durban è stata un bellissimo città come Città del Capo vicino al mare, per me è stato un gran anno perché ho cresciuto tanto, prima ho avuto un allenatore, io ho giocato terza linea, a Sharks ho giocato terza linea prima di venire qua, ma è stato un bellissimo anno con un'accademia come il Sharks, anche il Carri Cup sono buoni giocatori e è stato un buon anno. Ricordi qualche compagno che poi è riuscito come te ad avvicinarsi al rugby professionistico nell'accademia degli Sharks? Sì, c'è tanti giocatori che iniziare il Sharks Accademia come John Day, Selkigan, Daniel, Bismarck, Warira, tutti gli Springboks, tutti giocatori fortissimi. Grazie alle tue origini italiane, sei stato convocato poi dalla Nazionale Sperimentale Under 19 dell'Italia nel tour proprio in Sud Africa nel 2014, da dove vengono i tuoi familiari? Mio nonno sono nato a Cremona, sono molto vicino a Calvisano dove io ho giocato per due anni, dove noi ho vinto e scaduto, quindi io ho stato là anche Under 20 quando noi ho giocato a Samoa in ultima partita contro loro, abbiamo vinto per rimanere dentro il mondiale, è stata una bellissima esperienza, sì, mi è piaciuto molto Cremona. Hai detto che hai cominciato la carriera in terza linea quando invece ti sei dedicato tecnicamente al ruolo del tallonatore. Sì, io ho iniziato l'Accademia Francescato qua a Parma nel 2015, è stato difficile perché prima non ho capito italiano, non parlare, è stato molto difficile per il ruolo del tallonatore perché bisogna capire un po' di cose, ma è stata buona, una strada lunga, ma per me non cambio per niente. L'anno dopo arriva la tua prima esperienza di club con il rugby Calvisano, come è stato l'inserimento in uno spogliatoio collaudato che ti ha supportato per dare il meglio in campo? Guarda, quando ho arrivato a Calvisano c'è un paese molto piccolo, io ho nato a Città del capo, tutti lo so, c'è una città grande. È stato difficile ma è buono, un altro tipo di esperienza con giocatori molto forti, quelli di Cuca Cavalieri, Salvo Costanzo, Gabriel Morelli, tutti altri anche, ma ho stato una a due anni bellissimo con tutti gli altri là. Cosa hai screduti, ho vinto, per me è stato due anni buonissimo. Dopo lo scudetto col Calvisano e il tour con la nazionale maggiore nel sud pacifico, torni a Parma nelle Zebbre, insieme ad altri giovani compagni, ritrovando Coach Orlandi e Troncon. Per seguire la tua carriera, insieme ai giocatori ed allenatori che già conosci, ti ha aiutato? Sì, molto. Io quando iniziare qua in Italia, Tronchi e Carlo Orlandi sono stati il mio allenatore da Accademia anche per Annerventi, quindi da tutti i quattro anni ho stato qua sempre con loro, quindi con Carlo Orlandi ho migliorato molto il mio ruolo perché anche lui ha giocato tanti test per Italia e per me è stata una strada giusta per migliorare e cresciuto, quindi bene, bene. E dunque in cosa ti senti migliorato in queste due stagioni in bianco-nero al fianco di giocatori con tanta esperienza? Semplicemente bisogna migliorare ogni volta con i lanci in tush, anche con il mio ruolo in mischia, bisogna stare in focus tanto tempo e lavorare ogni giorno come i calciatori. Questa è una piccola cosa che bisogna migliorare ogni volta e sempre c'è un'opportunità per migliorare. Sabato a Bonfontein sfiderà i Cheetahs a tre settimane dalla gara di andata persa nella ripresa qui a Parma. I 35 gradi previsti nel Free State potranno avvantaggiare i sudafricani? Sì, guarda, noi ho perso questa partita qua a Parma, noi ho avuto tante opportunità per vincere la partita, ma con il nostro piano di gioco, noi voglio vincere ogni partita e questo è il nostro piano di gioco. Quando tante gente sente Zebra Rugby Club, noi voglio vincere, noi voglio giocare con palle in mano e spero quando noi vado a Bonfontein, lo so, è una partita molto difficile con questo caldo, ma noi sono pronti per vincere questa partita, sicuramente. Rispetto alla gara di Parma, del 6 gennaio mancheranno contro i Gheppardi i nazionali italiani impegnati a 6 nazioni, per cui che gara sarà? C'è una gara difficile, ovviamente con tutti i nazionali, sono contento prima per tutti i giocatori che vada al nazionale, sono tanti giocatori in bocca al lupo per loro, ma anche per noi è una grande sfida contro il Citas a casa, tanti giocatori vogliono giocare in questo tempo che non hanno giocato molto, spero tutti vogliono giocare molto bene e noi voglio sicuramente vincere contro loro in Bonfontein. Allora in bocca al lupo all'Uandre Luce e alle sue Zebra. Crepi, grazie Leo. Ciao.